Scoperti due lavoratori in nero, falle nella sicurezza sul luogo di impiego e cinque giovani clienti colti sul fatto mentre fumavano all'interno della discoteca. Nei guai un locale da ballo del Fanese che domenica è stato oggetto di un controllo congiunto dei carabinieri della compagnia di Fano, del nucleo ispettorato al lavoro di Pesaro e del nucleo antisofisticazione e sanità di Ancona. Nell'occasione il gestore della discoteca è stato sanzionato con multe per circa 15.000 euro, innanzitutto nell'ambito della sicurezza sul lavoro dove si è accertata la presenza di due lavoratori sprovvisti di regolare assunzione. Nel locale pieno di gente si sono notati anche clienti che fumavano all'interno. Cinque di questi sono stati multati con sanzione amministrativa pecuniaria che la norma punisce con ammende che vanno dai 27 ai 275 euro. Una serie di illeciti che ha portato alla sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni a norma di legge.